Buongiorno, l'ospedale San Bassiano non si smentisce. Inizia così il messaggio che ci ha inviato una nostra telespettatrice, residente a Romano Dezzelino, per segnalarci una storia che ha dell'incredibile. L'abbiamo raggiunta telefonicamente e sentite un po' cosa ci ha raccontato. Pochi giorni fa mio figlio ha avuto un incidente in moto, è stato trasportato al pronto soccorso del San Bassiano. Hanno fatto degli accertamenti sul caso, accertamenti un po' imbarazzanti perché non si capiva dopo aver fatto un'attacca se era rotta la gamba destra o la gamba sinistra. Al mattino lo dimettono con la gamba destra immobilizzata ma con impegnativa di controllo su gamba sinistra. Sono ritornata in pronto soccorso, mi hanno inviato in sala gesti e nessuno si ricordava di aver visitato mio figlio. Torno allo sportello della prenotazione dei controlli e mi rispondono che non cambiava nulla se la gamba era destra o sinistra. Avete capito bene, non cambia nulla. La nostra telespettatrice a questo punto si è rivolta a una struttura privata. Hanno esaminato l'attacca, fortunatamente la gamba incriminata è la destra e adesso... Che è quella che hanno ingessato? Sì esattamente. Quindi hanno ingessato giusto? Esatto, hanno ingessato giusto però i controlli li volevano fare sulla gamba sana. Il tutto in un pronto soccorso strapieno, con i medici costretti a turni disumani, causa carenza di personale. Ci sono i medici che corrono a destra e sinistra e guardano anche 5-6 pazienti contemporaneamente, cosa inumana. Perché si lamentano addirittura che non hanno neanche un neurologo di turno, il che voglio dire un'eccellenza come era il San Bassiano, stiamo veramente cadendo in basso. Loro sono sovraccaricati dal troppo lavoro che hanno e quindi non riescono a svolgerlo come dovrebbero svolgerlo. Nessun attacco, precisa la nostra telespettatrice, al lavoro di medici e infermieri che fanno di tutto, dice, per svolgere al meglio la loro professione e curare le persone. Manca organizzazione, secondo lei, da parte di chi dirige la struttura? Certo, sicuramente.